Accesso limitato e nuova illuminazione. La giunta comunale di Fano ha approvato un progetto di manutenzione straordinaria per aumentare la sicurezza del porto di Fano. Ad annunciarlo è il vice sindaco e assessore all'urbanistica Cristian Fanesi che ha illustrato i quattro interventi. La sistemazione dell'impianto idrico, l'installazione dei varchi per l'accesso carrabile nelle zone di lavoro del porto di Fano, la sostituzione e l'acquisto di parapetti, parabordi, anzi per quanto riguarda il moletto dove scaricano le nostre barche e il pescato e quindi lavori tanto attesi che riguardano l'attività lavorativa del porto Peschereccio e delle darsene che si sviluppano intorno anche all'area della canteristica. I varchi all'ingresso alle aree portuali saranno cinque, tutti muniti di sbarra alzabile soltanto da chi sarà in possesso di un badge rilasciato dalla capitaneria. L'obiettivo è quello di evitare l'accesso ai veicoli non autorizzati. Oltre alla sicurezza del porto, delle aree di lavoro abbiamo pensato anche di rendere più bello, più vivibile, più usato il molo di Ponente che è il molo che collega il faro e anche la statua della tempesta con il lido di Fano e lungo questa passeggiata nella quale siamo ora tantissime persone già vengono anche la sera quindi abbiamo pensato di dotarla di una trentina di lampioni nuovi a led ovviamente che aumenteranno la sicurezza ma certamente renderanno più godibile questa zona della città davvero eccezionale che sicuramente abbiamo solo noi. Per cui l'intervento complessivamente è di circa 330 mila euro con soldi che sono stati destinati al porto di Fano dalla regione Marche l'intervento andrà presto in gara e i lavori inizieranno subito dopo. Grazie